La Valle d'Itria accoglie per la prima volta l'International Kite Festival, evento speciale dedicato agli aquiloni nella suggestiva cornice di Masseria Madonna dell'Arco. Un festival speciale durante il quale designer e piloti di aquiloni di tutto il mondo si sono riuniti per esibirsi con i propri aquiloni artistici, per offrire uno spettacolo unico per grandi e piccini, da sempre considerato simbolo di pace, dialogo e solidarietà tra i popoli, l'aquiloni diventa così lo strumento per promuovere gli obiettivi dell'iniziativa, per sostenere l'arte del vento, il turismo ecologico e la creatività sostenibile. In questa grande masseria nel pieno centro della Valle d'Itria non c'è solo l'evento del Festival degli Aquiloni, ma ci sono una serie di iniziative che partono la mattina alle 10 e si concludono alle 22 e alle 23 di sera e in questo momento è in corso la Sagra, io sono in fila con il mio ticket per degustare i prodotti tipici di un territorio che parla tanto, che fa veramente rumore. Oggi è la giornata ideale, c'è vento, la sera poi si calme e quindi daremo spazio dopo gli aquiloni alla Mongolfiera, ma ci sono una serie di attività, quindi un evento consigliato ai bambini, alla famiglia, chiama la natura, chiama il green, tutto costruito sull'agenda 2030, portando degli aquiloni diversi dal solito, da quelli che noi immaginiamo, aquiloni grandi anche 60 metri.